benvenuti da FTA online a questo nuovo appuntamento di analisi sui mercati finanziari io sono Alessandro Magagnoli responsabile dell'ufficio studi del sito FTA online.com prima di passare al tema di oggi volevo informarvi che domani alle 17 e 30 terremo la nostra investing class mensile un appuntamento dove andiamo a ricercare le migliori opportunità di investimento sia sul mercato europei Italia inclusa ovviamente sia su quello americano e anche sugli etf se avete curiosità di conoscere di più su questo argomento potete scriverci uofficio studi chioccio FTA online punto com o chiamarci al numero che trovate in questa pagina come vedete il tema di oggi è quello di individuare una semplice strategia da utilizzare come punto di partenza per le vostre scelte operative sul mercato del future footsimib in particolare in questo caso sul mini e mi è stato richiesto appunto di proporre un'idea operativa sulla quale appunto impostare magari eventuali strategie evidentemente qui vi do una idea sulla quale poi si può magari costruire ma che potrebbe già essere di per di per sé sufficiente per operare vi spiego rapidamente quello che vi andrò a fare vedere qui abbiamo sulla sinistra della nostra pagina un grafico a candele orarie e che nasci come vedete ci sono delle frecce verdi che indicano un ingresso a rialzo e delle bandierine con scritto exit forse non si vede bene comunque sono questi queste bandierine rosse che indicano l'uscita dalla posizione long le regole da applicare per replicare questo tipo di operatività sono molto semplici si prende il grafico a candele che nasci e si entra in una posizione a rialzo questo sistema è solo long quando la chiusura dell'ultimo elemento è superiore al massimo sia dell'elemento precedente sia di due elementi precedenti la freccia che trovate appunto come livello di apertura della posizione viene posizionata nel primo elemento successivo alla verifica di questa regola quindi qui abbiamo l'ultima freccia rialzista sul nostro future che è alle ore 10 del 21 di febbraio questo che cosa significa che alle ore in chiusura alle ore 9 sempre del 21 di febbraio si è con questa candela verificata la regola che la chiusura di questa candela era superiore al massimo sia della candela precedente sia di due candele precedenti quindi il fatto che la freccia sia spostata ad un elemento significa che ovviamente io attendo la chiusura di una candela oraria per vedere se questa regola è verificata ossia se la sua chiusura è superiore ai massimi delle due candele precedenti e quindi andrò ad operare in apertura del nuovo elemento nel caso invece dell'uscita dalla posizione andrò a vedere che sia rispettata la regola che la chiusura dell'elemento della candela è inferiore ai minimi delle due candele precedenti qui vedete ad esempio abbiamo questa avevamo avuto un ingresso a rialzo qua alle ore 11 del 14 di febbraio perché questa candela terminata alle 10 aveva la chiusura superiore ai massimi delle due candele precedenti quindi alle ore 11 del 14 febbraio in apertura di quella candela oraria è stata avviata la posizione ed è stata mantenuta fino a che non c'è stata una situazione dove avevamo una chiusura inferiore ai minimi delle due candele precedenti quindi praticamente questo è il nostro stop profit ma potrebbe essere anche uno stop loss perché ovviamente c'è anche la situazione dove la posizione a rialzo viene chiusa con una perdita per quantificare la performance di questo sistema ovviamente non possiamo utilizzare il grafico a candele eikenashi perché sappiamo che le candele eikenashi sono costituite in modo sintetico quindi i loro valori di apertura e chiusura non rispettano quelli del mercato dobbiamo trasferirci sul grafico di destra che invece è il grafico dei prezzi quindi grafico del mercato effettivo su questo grafico abbiamo replicato gli stessi segnali che otteniamo dalla strategia impostata sulle candele ikenashi quindi in realtà quando io avrò il segnale quindi nella mia candela ad esempio terminata alle ore 9 del 21 febbraio il livello di prezzo al quale io andrò a operare non è l'apertura della candela eikenashi che ha 31 8 e 37 e 58 ma sarà il livello di prezzo della candela vera cioè il livello di prezzo di apertura sarà 31 8 e 80 tutti i calcoli della validità del trading system ovviamente sono stati fatti quindi non sul grafico eikenashi ma sul grafico reale dal grafico che nasci ricaviamo i segnali operativi l'operatività poi viene valutata in base alla performance sul grafico reale qui abbiamo nella parte alta questa linea che è la nostra equity line che ci mostra una crescita come vedete negli ultimi giorni l'ultimo mese circa c'è stata una crescita continua ci sono delle fasi in cui il mercato si mette in laterale il sistema esce sta fuori ad esempio qui quello che è successo tra il 12 di febbraio e il 14 di febbraio c'è stata una discesa quindi il sistema ovviamente essendo solo long non è intervenuto è intervenuto quando i prezzi sono ripartiti al rialzo vi ricordo che queste frecce replicano i segnali che sono ricavati dal grafico eikenashi quindi è una replica del trading system che però va valutato va attivato diciamo partendo dal grafico eikenashi quindi voi cosa dovete fare dovete se volete provare a seguire questo sistema dal grafico eikenashi ricavate ripeto i segnali quindi valutate semplicemente se la chiusura di un elemento è superiore ai massimi dei due elementi precedenti e a quel punto mettete un ordine di acquisto ovviamente sul mercato quindi a un prezzo che sarà diverso dal valore di apertura della candeleikenashi che vedete qua ma sarà esattamente il prezzo dove qui abbiamo la nostra freccia verde quindi tenendo aperti diciamo questi due grafici potete tranquillamente continuare a seguire il mercato ripeto questo caso particolare di un sistema solo long la performance però è assolutamente interessante ripeto non è magari il sistema ovviamente non è il sistema perfetto perché il sistema perfetto non esiste però già il fatto se anche non volete seguirlo da un punto di vista di operatività di avere una guida che vi dice se è il momento di stare long o meno sul mercato penso che sia un ottimo ausilio fatemi sapere se c'è necessità di ulteriori chiarimenti scrivete i vostri commenti sul video ricordatevi che ci potete scrivere sempre anche se volete farlo in modo personale quindi senza che ci sia diciamo pubblicità rispetto a quello che scrivete le vostre domande alle vostre richieste potete contattarci sempre a questi riferimenti vi ringrazio per l'attenzione e aspetto di sapere le vostre impressioni su questa idea che vi ho proposto oggi grazie 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 grazie